Ciao da Absim, questo non è assolutamente un video di gossip, lo dico subito per quelli che si indigneranno già solo a guardare titolo e copertina, ma come parli delle cose private di Massimiliano Allegri, ma non ti vergogni, fai video di gossip, sei disperato e giù di commenti critici e dislike. Fate tutti i commenti che volete, mettete tutti i dislike che volete, ma questo non è un video di gossip, quindi il commento critico ci sta, il dislike ci sta a ragion veduta in base a quello che vi dico, se magari non siete d'accordo, ma non riguardo al fatto che io abbia potuto fare un video di gossip riguardo alle vicende private di Massimiliano Allegri, perché non è di questo che voglio parlare. Voglio, se possibile, prendere spunto da questa vicenda di Allegri che ha lasciato Ambra o viceversa, insomma i due che non stanno più insieme tra l'altro da mesi, per parlare della tifoseria della Juventus e cercare di capire come si approccia a determinate situazioni, visto che in passato c'è stato, secondo me, un atteggiamento completamente diverso in altre situazioni comunque simili rispetto a quello che si sta registrando in queste ore. In queste ore un atteggiamento protettivo, un atteggiamento indignato appunto, come dire, suscettibile e quindi un atteggiamento di riprovazione nei confronti di come viene raccontata questa vicenda e di quanto viene messo in prima pagina Massimiliano Allegri, di come si parla di lui e delle sue vicende private. In altre situazioni, invece, un atteggiamento di indignazione da parte di alcuni tifosi della Juventus o di molti tifosi della Juventus al contrario, cioè non perché si era osato toccare il tesserato della Juventus, ma per quello che effettivamente il tesserato della Juventus aveva fatto o si supponeva avesse fatto. Insomma, in alcune situazioni non si vuole neanche sapere cosa sia successo, in altre situazioni si va ad indagare e si vanno a fare le pulci. Brevemente, come sapete, chi ha rivelato che Ambra e Allegri si sono lasciati? Sono arrivate ampie conferme, in quanto ieri, tra l'altro, Valerio Saffelli ha consegnato il tapiro d'oro di Striscia della Notizia ad Ambra Angiolini, una cosa ormai che ancora va avanti pur nel 2021, e Ambra non ha assolutamente smentito, pur non rivelando nessun particolare, quindi è stata sostanzialmente una puntata, una parte di questa vicenda del tutto irrilevante, se non appunto rispetto alle conferme di quello che si era scritto. Ma anche la figlia di Ambra e di Francesco Renga, con una storia su Instagram, ha rivelato, ha confermato e ha rivelato anche qualche particolare, cioè si sarebbe trattato di tradimento, ci sarebbe stato quindi un tradimento da parte di Massimiliano Allegri, ci sarebbe stato quindi un trattamento sbagliato nei confronti di Ambra, e quindi questi dettagli che però, ripeto, non entro in questo, perché non è questo il punto. Massimiliano Allegri può tranquillamente fare quello che vuole della sua vita privata come tutti, può lasciare le donne sull'altare, può far saltare tutti i matrimoni, tutte le convivenze, tutti i fidanzamenti che vuole. Assolutamente, non siamo nessuno per andare ad indagare la vita privata di qualunque persona, che sia più o meno pubblica, che appartenga o meno al mondo del calcio. È vero che di questo si parla quotidianamente, ci sono appunto settimanali su settimanali, blog, pagine, social, con sostanzialmente solo contenuti di gossip, quindi hai voglia di dire, sono fatti loro, non dovrebbe essere una questione rilevante la vita privata? Lo è, lo è come, ed anzi ci sono anche quelli, ci sono anche i mercanti della vita privata altrui, quelli che vanno a commerciare di queste cose, che vendono o comprano le esclusive e VIP stessi che vendono la propria vita privata per due lire, proprio perché sanno che può essere appetibile, che può attirare pubblico. Questo però è un altro mondo, Massimiliano Allegri, questo sicuramente non l'ha fatto, tant'è che pare che siamo venuti un po' tutti a conoscenza di questa separazione, che ripeto, sono fatti loro mesi dopo il momento in cui è avvenuta, cioè Ambra e Allegri si sono separati, si sono lasciati perché poi erano fidanzati conviventi da mesi, e questo si sapeva probabilmente in ambiente torinese, ma non si è saputo a livello nazionale fino appunto alla rivelazione di chi. Ora, l'atteggiamento della tifoseria della Juventus, perché è giusto, è giustissimo dire non sono fatti nostri, è giustissimo dire Allegri può fare quello che vuole, non siamo nessuno per andare ad indagare e giudicare. Bene, dovrebbe essere sempre così. Avrebbe dovuto essere sempre così, ma così non è stato praticamente mai. Ed è così perché si tratta di Massimiliano Allegri che notoriamente in una larga parte della tifoseria della Juventus gode non solo di sostegno, ma anche di idolatria e fanatismo. Ci sono tifosi della Juventus che sono definibili come fanatici di Allegri. Cosa si intende? Si intende che qualunque cosa negativa viene riferita a Massimiliano Allegri, fosse anche la cruda verità, viene utilizzata come occasione di indignazione, di reazione aggressiva nei confronti di chi mette in giro o sostiene determinate cose, perché Allegri non si può toccare. Questo atteggiamento iperprotettivo una parte della tifoseria lo vive anche nei confronti di Andrea Agnelli, quindi nei confronti del presidente in generale, nei confronti della società, ed è purtroppo un atteggiamento abbastanza puerile, perché non puoi difendere a spada tratta nessuno, perché tutti sbagliano, perché tutti commettono degli errori e di conseguenza tutti sono criticabili. Ma criticare non vuol dire essere contro, non vuol dire tifare un'altra squadra, non vuol dire fare il male della parte che si vuol sostenere. Anzi, a volte fare il male è proprio evitare di criticare, evitare di muovere delle accuse, evitare di porsi in contrapposizione. Evitando di fare questo non si fa crescere l'altra parte, non la si porta al miglioramento e al perfezionamento. E invece con le critiche costruttive, ovviamente non con l'aggressività e non con cose pretestuose, si arriva anche a far migliorare la parte che si sostiene. Questo lo dico in generale, ma in questo specifico caso abbiamo trovato, troviamo, riscontriamo, una incoerenza pazzesca. Perché davvero, di Allegri che ha lasciato Ambra o viceversa, si è parlato pochissimo in tifoseria giuventina in queste ore. E quel poco che si è parlato, si è parlato più che altro per una curiosità, per esprimere un'opinione, ma in maniera assolutamente distaccata, marginale, senza andare ad approfondire, senza fare una questione di Stato. Ecco, io voglio dire questo. Il moralismo e la moralizzazione, che sono due cose diverse, perché il moralismo è, diciamo, dare prevalenza a dei valori che sono etici, che sono sostanzialmente, ecco, appunto, morali legati ad uno schema, legati ad un ambito culturale. La moralizzazione, invece, è la correzione, a volte anche aggressiva, prevaricatoria, dei comportamenti degli altri sulla base di quei valori. Cioè, io posso essere moralista, cioè far la morale a tutti quanti, ma restano chiacchiere. La moralizzazione è di andare ad aggredire, di andare a dire, tu devi fare così. È molto peggio, è molto peggio, perché è prevaricazione. Questo atteggiamento c'è stato nei confronti di calciatori della Juventus. Non faccio nomi, sapete voi, a chi posso riferirmi, in base agli episodi che ci sono stati negli ultimi anni, negli ultimi anni, al punto da dire, questo non merita di stare alla Juve, questo non merita questo stipendio, questo non merita di giocare, questo non merita di fare il capitano, eccetera, eccetera, eccetera. Tutti pronti a dire, questo non merita, quest'altro non merita, con la moralizzazione, sulla base di comportamenti privati, di comportamenti privati, di fatti privati. Ora, com'è che si è fatto questo per determinati giocatori? Ma veramente si è parlato, parliamo di ondate di aggressività, di ondate di odio, di ondate di indignazione contro questi giocatori. E lì non era, e lì non era andare contro la Juve, e lì non era essere anti-Giuventini, mentre adesso Massimiliano Allegri forse ha tenuto un comportamento irrispettoso nei confronti della sua compagna, forse è quello che possiamo dedurre, e viene tutto archiviato preventivamente, e si getta preventivamente acqua sul fuoco, e nessuno ne vuol sapere nulla, e nessuno dice questo qui non è degno di fare l'allenatore della Juventus. Io ovviamente non sto dicendo che Allegri non è degno di fare l'allenatore della Juventus, come sono d'accordo sul fatto che non sono affari nostri, né per Allegri né per i calciatori, quello che fanno nella vita privata. Sono state mosse e accuse a giocatori della Juve perché facevano tardi la sera, perché partecipavano a feste, perché fanno video con le fidanzate, perché vanno in vacanza, perché fanno questo e quell'altro, perché si divertono, perché si divertono, udite udite, si divertono, e hanno una vita privata, sociale, hanno una vita di relazione, hanno relazioni amicali e d'amore con varie persone. Per questo, questo si è fatto pesare ai giocatori della Juventus, e si è fatto moralismo ma si è fatta moralizzazione. Adesso invece con Allegri tutto questo non c'è, e quindi fate bene adesso, si fa bene adesso, è benissimo così. Quindi non dico che Allegri non è degno di questo o di quell'altro, Allegri è un allenatore, è una persona intelligente, è una persona seria, è un professionista serio. Io mi fido di lui come allenatore della Juventus, anche se non sono d'accordo con il suo modo di allenare, con il suo stile di gioco, ma lì ci confrontiamo sul contenuto, ma io non vado a delegittimarlo, non vado a dire tu non devi essere l'allenatore della Juventus. Un conto è dire spero che un allenatore venga esonerato, altra cosa è dire non è degno di allenare la Juve. Io queste cose non le ho mai dette, non le ho mai pensate, non sono mai passate da queste parti. Eppure mi accusate di essere, tanti mi accusano di essere anti-Allegriano a prescindere. No, il problema è, io non sono contro nessuno, il problema è che ci sono dei tifosi che sono a favore a prescindere di qualcuno e quando quel qualcuno viene toccato, sembra che quell'altro sia a fare una battaglia, a fare una crociata contro, oppure sono contro a prescindere qualcuno e quando qualcuno difende magari quei giocatori o li elogia o li apprezza, sembra che siano dei cocchi. Io non ho cocchi e non faccio crociate. Sono i tifosi, siete molti di voi che lo fanno e quindi poi vi trovate in contrasto con opinioni che sono comunque legittime. Quindi per me Allegri continuerà ad allenare la Juventus con o senza ambra e buon per lui se riesce a separare queste vicende personali a livello emotivo da quella che è la sua professionalità, da quello che deve essere il suo lavoro in allenamento e sul campo. E non ho problemi, non abbiamo neanche paura che questo possa influire sul suo lavoro perché tra l'altro se è una cosa che è successa da mesi è qualcosa che ormai ha metabolizzato. Il comportamento però è il problema, cioè nessuno si è posto il dubbio di dover, anche questa volta come fatto in passato, giudicare e moralizzare certi comportamenti che sulla carta sarebbero in teoria più gravi di quelli che sono valsi le accuse e le indignazioni nei confronti di determinati giocatori. Ma ripeto, sarebbe stato sempre così, doveva essere sempre così anche nei confronti dei giocatori. Invece è stata fatta moralizzazione assolutamente fuori luogo. Questa dimostrazione che magari non ci sono tanti creators che fanno le loro crociate e hanno i loro cocchi. È la tifoseria, siete voi tifosi che siete un po' suscettibili, avete i vostri cocchi e avete i vostri nemici. Quindi i vostri nemici devono essere sempre criticati, i vostri cocchi devono essere sempre elogiati. E su Allegri purtroppo si fa del fanatismo, ripeto, come dicevo prima, ma è prevaricazione. Cioè non si può neanche nominare, mi è capitato un sacco di volte, non si può neanche dire Allegri ha sbagliato questo nell'ottica di una critica costruttiva per vedere il miglioramento della squadra che amo, della squadra per cui faccio il tifo, che subito arrivano le crociate, quelle sì, nei confronti di chi osa, di chi osa criticare Allegri. Questo fanatismo non fa bene a voi, non fa bene a voi, perché nella storia del singolo individuo, ma nella storia dell'umanità, non capita mai a nessuno di trovarsi sempre dalla parte giusta, dalla parte giusta della storia. Tutte le tirannie sono state abbattute, tutti i tiranni, presto o tardi, prima o poi, sono stati tutti quanti abbattuti sulla spinta della minoranza che era stata soggiogata fino a quel momento. Quindi si è dalla parte sbagliata in alcuni momenti della storia, ma a un certo punto si passa dalla parte giusta, tra virgolette, cioè dalla parte di chi vince. E quindi, quando prevaricate gli altri con le vostre opinioni sferzanti, con le vostre indignazioni, quando pensate che altri non abbiano il diritto di parlare, pensate che domani potreste trovarvi voi, dalla parte, tra virgolette, sbagliata della storia, ad essere soggiogati e prevaricati. E non vorreste trovarvi di fronte persone come voi che prevaricate. Vi assicuro, vi assicuro. Quindi lasciate la libertà a chiunque di esprimersi e cercate di non moralizzare. Lo dico veramente a tutti i rifusi della Juventus. Sono cose che non ci riguardano. Non ci riguardano. Facciano quello che vogliono della loro vita privata. Poi possiamo tranquillamente confrontarci, ma così, con la curiosità anche un po' spicciola che ci suscita inevitabilmente il gossip perché ci fa parlare, ci fa confrontare. È una cosa assolutamente umana. Ma da qui ad andare a dire come si è detto in passato di certi calciatori questo non è degno, quest'altro non è degno, questo mi fa schifo, questo se ne devi andare per poi non fare ma neanche lo 0,1% della stessa cosa nei confronti di Allegri significa fanatismo, prevaricazione, moralizzazione e soprattutto incoerenza. Quindi torniamo ad essere tifosi della Juventus anche con tutto il confronto, le critiche, le analisi perché comunque le cose non vanno sempre bene e speriamo che vadano sempre meglio ma lasciamo da parte la vita privata sempre, sempre che questo caso Allegri Ambra insegni definitivamente alla tifoseria della Juventus che le cose private di tutti i tesserati, di tutti, devono essere lasciate da parte. Grazie per la vostra attenzione e buon dibattito nei commenti non sulla vicenda Allegri Ambra ma sulla tifoseria della Juventus che reagisce in maniera diversificata a situazioni simili ed anche peggiori. like al video se vi è piaciuto iscrivetevi al canale e attivate le notifiche per non perdere i prossimi contenuti che saranno di campo e non di gossip ma non lo era neanche questo abbonatevi per tanti vantaggi tra cui anticipazioni sui miei prossimi video e dibattito tutti i giorni a tutte le ore nelle chat riservate sul mio server Discord. Ci vediamo molto presto e sempre forza Juve! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!